Salve a tutti, era un po' di tempo che non portavo qualche prodottino nuovo tecnologico e adesso andiamo a fare, ad aprire insieme, questo citofono wireless wifi della Ring eccolo qui questo qui è il modello, quello un po' più avanzato ha quel colore bronzo molto molto carino e la batteria quindi funziona anche nei momenti in cui non c'è la corrente oppure se non c'è possibilità di alimentarlo si può tranquillamente utilizzare e una volta ogni tanto poi bisogna collegare il cavetto USB per ricaricarla lo andiamo ad aprire insieme e vediamo cosa ci viene dato insieme in dotazione con tutta la confezione stavo pensando invece di fare il solito video che vi faccio vedere con la telecamera quella vista dall'alto andiamo ad utilizzare i Ray-Ban Meta così poi mi dite pure come se vi è piaciuto come viene il video che se funziona utilizzo sempre questi eccoli qua Ray-Ban Meta così facciamo due cosettine tecnologiche sul canale trovate anche il video recensione dei Ray-Ban Meta quindi se volete approfondire un pochettino trovate anche il video di questi allora andiamo ad aprire la confezione allora qui troviamo due scatolette eccole qui allora nella prima abbiamo i vari fogliettini illustrativi garanzia e sistemi di montaggio ok poi abbiamo il cacciavidino che probabilmente serve per bloccarlo gli stop per fissarlo a parete e poi eccolo qui le vitarelle quelle per bloccare per non rischiare di farcelo rubare e il cavettino come vi dicevo il cavettino usb di tipo ci mi sembra no no non è usb di tipo c'è micro usb e per caricarla andiamo a vedere il prodotto vero e proprio eccolo qui questo qui allora la parte dietro che vi dicevo che va poi serve per fare tutto il montaggio è questa qui l'usb micro usb vedete si carica qui oppure possiamo mettere positivo e negativo attenti al voltaggio per mandarlo in alimentazione continua o se lo andiamo a cambiare che noi abbiamo un vecchio citofone vogliamo mettere questo lo possiamo fare nella parte frontale abbiamo la telecamera che fa video in hd è un po' più pesante del solito perché ha la batteria questo qui ha come vi dicevo la batteria una volta che lo andiamo a accendere vedete o che ci suonano sentite manda il messaggio sta avvertendo tutti i cellulari che sono collegati io adesso ancora non l'ho configurato però poi eventualmente vi faccio un video sul montaggio e la configurazione questo qui è il colore è molto bello questo qui perché è un sembra tipo bronzo non lo so allora rileviamoci questi qui fatemi sapere se vi è piaciuto il video fatto in questo modo oppure è meglio con con la telecamera da sopra sicuramente sarà più preciso con la telecamera da sopra però insomma volevo provare a vedere come veniva rimettiamoci gli occhiali da vista che io senza sono mezzo cieco e niente questo qui è il prodotto prossimo video appena avrò un attimo faccio il montaggio quindi vi faccio vedere il montaggio e come funziona alla prossima se volete rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al canale e mettete la campanellina così ogni volta che carico un video vi arriva l'allerta e ricordatevi che sono presenti anche su tiktok e instagram grazie a tutti grazie a tutti